good morning juventus e ovviamente buona domenica io sono particolarmente contento di dedicare il good morning della domenica che prima non c'era fino a qualche tempo fa a tutti i lavoratori che alla domenica devono andare a lavorare con un sacco di gente che invece sta a casa si diverte si rilassa sta con la famiglia quindi dedicato a tutti voi che lavorate con grande stima e con grande rispetto nei vostri confronti allora avete visto il titolo che ovviamente gioca con un film famosissimo che molti di voi avranno sicuramente visto fuga dal carazzo che cosa vuol dire questo titolo ha un senso nel senso che io rifuggo io vado via da tutte le peana scritte sui giornali allora io ovviamente lo dico chiaramente in maniera molto netta mi auguro che alcaraz sia il nuovo vidal il nuovo davis il nuovo tardelli il nuovo furino quello che volete voi scegliete voi quello che vi più simpatico quello che vi piaceva di più magari un altro che non ho nominato però non è possibile che tutte le volte che arriva un giocatore alla juventus lo esaltano i media ha fatto cose meravigliose ha segnato un gol tra stratosferico signori si parla di allenamenti anche giallo ha fatto cose buone si sta riprendendo sicuramente giallo e alcaraz siccome io mi fido di giuntoli sono due ottimi acquisti ma prima di spargere rose miele dolcezze e complimenti a due giocatori che non abbiamo mai visto perché abbiamo visto alcaraz per tre minuti quattro minuti a milano e non abbiamo mai visto giallo in campo in partiti ufficiali io personalmente ci aspetterei un attimo perché queste cose queste cose fanno male a noi tifosi che ci esaltiamo ci entusiasmiamo e poi dopo ci ritroviamo con un nulla di fatto in mano ma soprattutto fanno male ai giocatori e voglio citare un esempio recentissimo o meglio più o meno recente perché parliamo del calcio degli ultimi anni juventus barcellona 3 a 0 di bala fa una partita sontuosa la più bella partita che di bala ha fatto in maglia juventus perché ne ha fatte altre ma erano empoli erano frosinone erano udinese erano carpi non contro il barcellona e fa due gol e fa assist e fa giocate mirabolanti tutti entusiasti tutti esaltati da di bala il giorno dopo titoli sui giornali il vero messi sono io altro che messi è nata una stella la juventus è in mano uno dei giocatori più forti del mondo che fine ha fatto di bala che fine ha fatto di bala che di bala abbia del talento nei piedi lo sanno anche le lucerte del mio giardino ma di bala di fatto è andato da quella partita in poi in parabola discendente ha avuto più infortuni è stato ceduto la juventus senza rinnovare il contratto alla roma fa buone cose ma più le volte anche anche alla roma che non c'è che le volte che c'è per cui prima di andare a rischiare di bruciare dei ragazzi giovani perché stiamo parlando alcaraz è giovanissimo già lo è giovane prima di andare a bruciare dei ragazzi giovani entusiasmandoli caricandoli di pesi più forti delle loro spalle io ci penserei due volte e per quello che io fugga dal caraz come fugga anche dal giallo avrei potuto fare anche mettere di roma ovviamente ho giocato sul cognome del ragazzo che assomiglia ad alcatraz no giusto perfetto per cui io ripeto con le mani concerte quasi in preghiera calcistica spero veramente che alcaraz sia la risoluzione del problema pensate un attimo secondo voi io che non posso vedere i miei retti che lo vedo come fumo negli occhi non sarai l'uomo più contento del pianeta terra e forse anche del sistema solare conosciuto se alcaraz togliesse definitivamente il posto a miei retti in squadra io sarai l'uomo più felice del mondo io tifo alcaraz tifo alcaraz ma nel contempo sto attento ad esaltarlo perché non l'ho ancora visto non è un allenamento che mi fa pensare che alcaraz sia il nuovo vidal perché ho letto anche questo ho letto che è il nuovo vidal io vi ricordo che il primo mckenny non quello che sta giocando meravigliosamente bene adesso quello che era imbarazzante che era era inguardabile che chiamavamo mac burger chiamavamo panina lo chiamavamo vai a vendere le patatine lo critichavamo tutti quanti compresi gli inglesi che l'hanno avuto l'anno scorso l'avevano paragonato a davis ok l'avevano paragonato a davis ok all'epoca adesso fortunatamente hanno smesso di paragonarlo a qualcuno mckenny è mckenny punto e mckenny sta facendo una stagione stratosferica e ci sono e sono contentissimo per lui sono contentissimo per lui quindi andiamoci piano a esaltare giocatori appena arrivati in maglia bianconera lui è entusiasta ha fatto una bella conferenza stampa in allenamento si sta facendo valere tutte cose meravigliose ma come dicono i miei amici americani fly down vola basso e schiva i sassi alcaraz io sarò il più grande tifoso di questo ragazzo se mi dimostrerà di essere da juve e come ho detto se toglierà definitivamente il posto a quella pippa di miretti ma con allegri non si può mai sapere perché magari lo fa giocare domani con l'udinese fa un partitone e poi per non fargli montare la testa in maniera spastica però lui in quel caso lì spastica non come lo sto dicendo io nel video non lo fa più giocare per un mese capite come ragione allegri perché io sono d'accordo che non si deve montare la testa però se gioca bene fallo giocare perché così prende confidenza con i compagni prende confidenza con la palla prende confidenza con la serie a ok quindi giocare sì ma esaltare no good morning juventus